L'incubo viabilità è tornato. Da oggi a mercoledì chiusure notturne causa lavori del viadotto del Cerrano sull'A14, lo stesso tratto sequestrato dalla procura di Avellino per cui nel periodo natalizio era scoppiata l'emergenza traffico. Gli autotrasportatori sono così costretti ad uscire dall'autostrada paralizzando la statale tra Pineto e Pescara Nord. Finora Autostrade per l'Italia, la società del gruppo Toto che gestisce l'A14 avrebbe chiesto il di sequestro alla procura esclusivamente per i viadotti marchigiani, mentre la situazione giuridica in Abruzzo si somma ai numerosi cantieri per adeguare le gallerie alle normative antincendio. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha dichiarato che chiederà i danni ad Aspi e questo sia per le ore di viaggio perse, per l'inquinamento dei centri abitati attraversati dei tirre, per i danni economici, sia per il danno d'immagine. L'idea di trascorrere ore imbottigliati nel traffico infatti non è la miglior pubblicità all'Abruzzo che ora appare inraggiungibile, tagliato fuori dal trasporto su ferro ad alta velocità e con la terza corsia autostradale che termina nelle Marche. Ho sollecitato l'Aspi a realizzare la terza corsia anche in Abruzzo, ha dichiarato Marsiglio, ma secondo la società non ce n'è alcun bisogno. La cronaca però sembrerebbe smentire il gruppo Toto. Sabato infatti è bastata un'auto in fiamme nella galleria Pianacci a mandare in tilt la circolazione, generando chilometri e chilometri di code in entrambe le direzioni per l'intera giornata. È tempo che la ministra De Micheli apra un dossier serio sull'Abruzzo, la richiesta del governatore. Intanto si accumula il danno economico. Ogni ora sul tratto tra Porto Sant'Elpidio e Pescara Nord transitano in media 1.200-1.300 veicoli l'ora. Gli autotrasportatori sono la categoria più colpita. Questi infatti sono obbligati dalla legge a rigidi orari di guida, con soste ogni quattro ore e mezza. Se questo tempo però è trascorso in bottigliati nel traffico, è inevitabile che le programmazioni nelle consegne saltano. Danni rilevanti per oltre 2.000 imprese abruzzesi di autotrasporto. Un disastro, commenta il direttore regionale della CNA Graziano Di Costanzo. Noi ci troviamo di fronte a un imbuto che di fatto sta creando danni gravissimi sia all'economia e sia a questo settore del turismo. Ed è una situazione non più tollerabile. Abbiamo scritto una lettera unitaria la settimana scorsa a tutte le organizzazioni, da Toriale e Sindacale al Ministro De Micheli, chiedendo un intervento personale. Qui se non si mettono d'accordo autostrade, ministero e procura di Avellino, perché tutti hanno a diverso grado la loro responsabilità, la situazione non si sblocca. Perché un'arteria fondamentale per l'Italia, l'abbiamo detto in tutte le salse, questo non è un problema abruzzeso marchigiano. Qui passano le merci della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia Romagna, che vanno in Puglia e viceversa. Qui se non si risolve questo problema, a noi questo interessa, c'è un danno enorme per l'economia italiana. La CNA sta organizzando anche azioni di protesta. Istituzioni locali e associazioni di categoria chiedono tutti perlomeno la riduzione dei pedaggi, ma finora orecchie da mercante da parte di Autostrade per l'Italia, mentre la situazione continua a trascinarsi da mesi e mesi.